Il modello atomico di Bohr è stato un notevole successo della fisica perché utilizzando alcuni semplici principi di quantizzazione e relative alle transizioni elettroniche è riuscito a fare un quadro abbastanza coerente della struttura atomica spiegando anche dei fenomeni sperimentali importanti quali gli spettri atomici. Se non si possono legare i meriti al modello di Bohr è necessario però sottolineare alcune carenze di questo modello, carenze che sono sia diciamo pratiche ossia il modello non rende conto del comportamento di elementi con più elettroni intorno al nucleo ma questa carenza può essere superata in realtà successivamente a Bohr Sommerfeld riuscì a modificare il modello per spiegare per descrivere anche gli atomi polielettronici. Ma oltre a questa carenza interpretativa superabile il modello di Bohr aveva e ha una carenza diciamo di principio di base ossia il modello di Bohr usa dei principi della meccanica classica però introduce dei postulati che non trovano spiegazioni in quegli stessi principi ossia usa un tipo di fisica, fisica classica ma poi deve introdurre dei cambiamenti a questi stessi principi senza poterne dare spiegazione. Il modello di Bohr viene infatti superato da quelle che sono le nuove concezioni atomiche moderne. Per poter però spiegare l'atomo utilizzando le teorie più moderne è necessario introdurre alcuni concetti fondamentali che sono dei principi, dei concetti che hanno posto le basi alla nascita di una nuova fisica, di una nuova meccanica per descrivere questi sistemi microscopici che è la meccanica quantistica. Quindi in realtà i modelli atomici moderni non utilizzano quelli che sono i principi della meccanica classica perché all'interno di questi principi non ho tutte le leggi per poter spiegare i fenomeni atomici ma devo utilizzare una nuova meccanica, una nuova fisica che prende il nome di meccanica quantistica. Questa fisica nasce da alcuni principi, da alcune scoperte teoriche appunto successive, appena successive, a quelle che sono le formulazioni di Bohr. Il primo principio estremamente importante è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Ossia Heisenberg studiando la possibilità di misurare sistemi microscopici dal punto di vista teorico formulò il seguente principio. Dice che non è possibile determinare contemporaneamente con esaltezza la posizione e la velocità o il momento di una particella di dimensioni atomiche. Ossia più correttamente si deve dire che per qualunque sistema fisico il prodotto delle indeterminazioni tra la posizione di un corpo e la sua quantità di moto deve essere sempre maggiore o uguale ad h su 4π, dove h è la costante di Planck. Questo è valido in realtà per tutti i sistemi materiali, però assume una certa importanza soltanto per i sistemi microscopici. Infatti, come dicevo prima, non posso misurare posizione e momento della quantità di moto per una particella di dimensioni atomiche, per una particella in realtà macroscopica. Questo è possibile. Facciamo un esempio per capire come funziona questo principio. Per esempio, supponiamo di volermi misurare la posizione e la velocità di una palla da tennis. Sappiamo che questo è possibile, lo vediamo spesso negli incontri di tennis, dove viene determinata la velocità e la posizione della palla dove va a finire, se in campo o fuori campo. Comunque, facciamo questo esempio. Consideriamo una palla da tennis che ha una massa di circa 60 grammi, 0.060 kg, la velocità calcolata per una battuta di un tennista professionista di circa 55,55, 55.5 metri al secondo. Vediamo di calcolare l'indeterminazione per la posizione di una palla con questa velocità. Allora, l'indeterminazione della quantità di moto, supponiamo di poterla determinare con una precisione dell'1%, ossia abbastanza buona, accettabile. Con semplici passaggi matematici, vediamo la quantità di moto, la esprimiamo come la massa per la velocità. Quindi l'indeterminazione della quantità di moto è data come l'indeterminazione di questo prodotto, la massa la calcoliamo con esaltezza, e questi sono questi 60 kg, l'indeterminazione della velocità è l'1%, quindi 0.01 per 55, per 60 grammi, 0.060 kg, abbiamo un valore in kg della quantità di moto di 0.033. Vediamo di calcolare a questo punto l'indeterminazione della posizione applicando il principio di indeterminazione di Heisenberg, ossia l'indeterminazione della posizione deve essere maggiore o uguale ad h su 4π. Ossia, vediamo il valore minore di questa indeterminazione. Questa indeterminazione Δx è uguale ad h su 4π fratto, oppure che moltiplica, 1 sull'indeterminazione della quantità di moto. Sostituendo i valori, abbiamo il valore della costante di Planck, che è 6.6 per 10 alla meno 34, un valore estremamente piccolo. Diciamo che questo è il segreto, il motivo per cui questa equazione ha significato rilevante solo per i sistemi microscopici, appunto per questo valore estremamente piccolo della costante di Planck. Quindi abbiamo questo valore al numeratore, nel numeratore abbiamo 4π per l'indeterminazione che abbiamo calcolato essere 0.033. Con un semplice calcolo otteniamo un'indeterminazione in metri della posizione di 1.6 per 10 alla meno 33. Indeterminazione questa che è assolutamente trascurabile nei sistemi microscopici ma anche microscopici, valori 10 alla meno 33, valori estremamente piccoli. Quindi si può assumere che per una palla da tennis io posso misurare con esattezza il valore della velocità e della posizione. Posso determinare con esattezza queste due grandezze. Vediamo di fare gli stessi calcoli per un elettrone che ruota intorno ad un atomo. Per un elettrone di ruota intorno ad un atomo dobbiamo considerare quindi la massa dell'elettrone e qui abbiamo, diciamo, la chiave che ci spiega il motivo per cui l'indeterminazione diventa rilevante. La massa dell'elettrone è molto piccola, quindi 9.11 per 10 alla meno 31 kg per dei valori estremamente piccoli. Non proprio comparabili ma più o meno piccoli come la costante di Planck. Pur utilizzando una velocità estremamente elevata per compensare il suo valore piccolo, 6 che moltiplano 10 alla sesta metri al secondo dell'elettrone, che è più o meno la velocità che si stima dell'elettrone nell'atomo, vedremo che andiamo a ottenere delle indeterminazioni sulle posizioni estremamente elevate. Quindi supponiamo di determinare la velocità, che questa velocità sia 6 per 10 alla sesta metri al secondo e volerla calcolare con un'indeterminazione pari all'1%. Andiamo a calcolare l'indeterminazione risultante sulla quantità di moto. Usiamo la stessa formula vista precedentemente, dobbiamo moltiplicare questo 0.01 per 6 per 10 alla sesta, quindi un valore estremamente elevato di velocità, ma per determinare appunto l'indeterminazione sulla velocità, ma poi dobbiamo moltiplicarlo per quello che è il valore della massa dell'elettrone, che è quel 9.11 per 10 alla meno 31. E' un'indeterminazione sulla quantità di moto di 5.5 per 10 alla meno 26 kg per metri al secondo, cioè la stessa unità di misura della quantità di moto. Questo è un valore estremamente piccolo, che vediamo nella formula dell'equazione di Heisenberg, che va a finire al denominatore. Infatti, utilizzando l'equazione di Heisenberg, calcoliamo l'indeterminazione nella posizione, che è dato da h su 4 pi greco fratto questa indeterminazione sulla quantità di moto. costituendo, abbiamo 6.6 per 10 alla meno 34, abbiamo visto il valore piccolo della costante di Planck fratto dei valori però abbastanza piccoli, estremamente piccoli anche questi, 5.5 per 10 alla meno 26 della quantità di moto e poi 4 pi greco. Il risultato è un'indeterminazione sulla posizione di 1 per 10 alla meno 9 metri. Questo valore è un valore estremamente grande, cioè 10 alla meno 9 metri è piccolo per un sistema macroscopico, ma per un sistema microscopico con dimensioni dell'ordine degli Engstrom vediamo che i 10 alla meno 9 metri sono grandezze maggiori della dimensione stessa dell'atomo. un atomo di idrogeno ha dimensioni all'incirca di 10 a meno 10 metri, questo, cioè di un Engstrom, questo valore è addirittura più grande la dimensione dell'atomo. Quindi all'interno dell'atomo io ho un'indeterminazione della posizione dell'elettrone maggiore della dimensione dell'atomo stesso. Quindi non ha senso in questo contesto, tenendo conto di questo principio, parlare di posizione dell'elettrone nell'atomo perché è un qualcosa che non posso andare a determinare sperimentalmente, o meglio, non ha senso parlare di orbita dell'elettrone nell'atomo perché per determinare un'orbita di un elettrone nell'atomo io devo conoscere il moto, devo conoscere la traiettoria, devo conoscere, cioè la velocità e la posizione contemporaneamente. Ma non lo posso fare contemporaneamente. Se conosco una velocità, non conosco la posizione perché l'indeterminazione risulta più grande dell'atomo. Potrei fare l'inverso, se volessi conoscere la posizione in maniera esatta potrei farlo ma in quel caso avrei un'indeterminazione estremamente elevata per quanto riguarda la velocità. Quindi questo principio di indeterminazione è molto importante perché un po' mi permette di escludere tutta una serie di modelli che fissavano queste due grandezze, che parlavano di orbite. Mi fa capire che devo descrivere l'atomo in modo totalmente diverso senza poter definire un'orbita ben precisa. Questo principio, ricordiamoci che è un principio teorico benché tratta di misure sperimentali è stato ricavato con formulazioni teoriche formulazioni su cui non ci soffermiamo perché non fanno parte di questo corso ma è un principio ormai accettato nella fisica moderna. Quindi questo è il principio base che mi porta ad escludere le formulazioni di modelli atomici basati sulla meccanica classica perché per la meccanica classica ho bisogno, per la cinematica, per la dinamica ho bisogno di conoscere posizione e velocità quindi è necessario usare una nuova meccanica. Grazie. 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 Grazie.